Consigliere Omeo, oggi vertice di maggioranza con il Presidente Maroni sulla questione del reddito di cittadinanza, cosa è emerso? Niente, è emerso che sono state ampie assucurazioni da parte del Presidente Maroni che non si tratta del reddito di cittadinanza inteso alla grillina, ma si tratta invece di misure di aiuto a quelle persone che si trovano in uno stato di povertà. Non si tratta di un sussidio così dato in forma assistenzialistica, ma invece di un percorso e di un contributo che può davvero aiutare le persone a seconda anche di quelle che sono le tipologie, per esempio sui giovani, politiche attive sul lavoro e quindi inserimento nel campo lavorativo, per quanto riguarda invece le persone più anziane, magari una qualche forma di incentivo, di aiuto, di sostegno, come per esempio l'esenzione del ticket, per fare un esempio, per coloro che sono veramente in uno stato di grossa difficoltà. Si è parlato anche magari dei tempi entro i quali ci sarà una concretizzazione di questa proposta? Ma sì, adesso non si tratta ancora di una proposta in stato embrionale, ci lavoreremo, l'idea è quella entro la fine dell'anno di cominciare a erogare i primi aiuti. Quindi tutti d'accordo comunque alla fine dell'incontro? Ma sì, sì, adesso poi chiaramente dobbiamo verificare come concretizzare, rendere operative queste misure, però c'è un accordo assolutamente di massima.